La compagnia teatrabile nel Teatro Studio di Via Ficara in Piazza d'Arti riapre la stagione con Il nome dell'Aquila, con Alessandra Tarquini, Michele Di Conso, Roberta Buccia e Maria Rita Pace per la regia di Eugenio Incarnati, una produzione fatta in collaborazione con il Teatro Stabile. La compagnia fin qui è stata impegnata nelle repliche mattutine destinate alle scolaresche ed ora presenta per tutti alle 18.30 di sabato 3 novembre uno spettacolo particolarmente amato dai ragazzi ma anche dagli adulti. Quante parole si possono dire su una goccia d'acqua, un rapace, un re e il suo stemma, su tanti castelli un numero magico che non è cento ma quasi? E noi, quante ne vogliamo dire? Non tante, quelle che servono per tornare ad essere contenti di passeggiare per le strade e i vicoli. Con uno stile a tratti pedagogico, a tratti giullaresco, le attrici, Roberta Buccia, Alessandra Tarquini e Maria Rita Pace, l'attore Michele Di Conso, trasformano i personaggi della storia in persone più vicine a noi. L'Aquila, sin dalla sua nascita città-territorio, fatta dalle persone per essere liberi e uniti, una città di tutti gli abitanti, dalle montagne al fiume, dalla collina ai boschi, ne viene fuori un inno per la città che nel corso dei secoli ne ha viste tante e perciò non deve spaventarsi di niente. Lo spettacolo prende le mosse dalla citazione delle cronache aquilane di Buccia d'Aranallo e il trecentesco documento, lungi dal dimostrare la sua attempatezza, si rivela qui vitale e coinvolgente, tanto da far nascere un nuovo e più consapevole amore per la città ferita. Grazie.